L'ONU nel 1994 ha dichiarato il 15 maggio giornata mondiale delle famiglie quale fondamento della società. La biblioteca civica di Tortona, sensibile nelle proposte letterarie rivolte da sempre ai bambini con una sala dedicata e alle famiglie con l'acquisto di volume a tema, propone oggi un brano tratto dal libro di Paolo Crepe, Non siamo capaci di ascoltarli. La riflessione sull'infanzia e l'adolescenza. Infatti la famiglia senza figli non è famiglia, il ruolo genitoriale è sempre più difficile nella società contemporanea. Cosa hai sentito finora del mondo attraverso l'acqua e la pelle tesa della pancia di mamma? Cosa ti hanno detto le tue orecchie imperfette delle nostre paure? Riusciremo a volerti senza pretendere, a guardarti senza riempire il tuo spazio di parole, inviti, di vieti. Riusciremo ad accorgerci di te anche dai tuoi silenzi, a rispettare la tua crescita senza gravarla di sensi di colpe e di affanni. Riusciremo a stringerti senza che il nostro contatto sia richiesta pasmodica o ricatto di affetto. Vorrei che i tuoi natali non fossero colme di doni, segnale a volte sfacciati delle nostre assenze, ma di attenzioni. Vorrei che gli adulti che incontrerai fossero capaci di autorevolezza, fermi e coerenti, qualità dei più saggi. La coerenza mi piacerebbe per te e la consapevolezza che nel mondo in cui verrai esistono, oltre alle regole, le relazioni e che le une non sono meno necessarie delle altre, ma facce di una stessa luna presente. Mi piacerebbe che qualcuno ti insegnasse a inseguire le emozioni come gli aquiloni fanno con le brezze più impreviste e spudorate. Tutte, anche quelle che sanno di dolore. Mi piacerebbe che ti dicessero che la vita comprende la morte, perché il dolore non è solo vuota perdita, ma affettività, acquisizione, oltre che sottrazione. La morte è un testimone che i migliori di noi lasciano ad altri nella convenzione che se ne possano giovare. Così nasce il ricordo, la memoria più bella che storia della nostra stessa identità. Mi piacerebbe che qualcuno ti insegnasse a stare da sola, ti salverebbe la vita. Non dovrai rincorrere la mediocrità per riempire vuoti, né pietire uno sguardo o un'ora d'amore. Impara a creare la vita dentro la tua vita e a riempirla di fantasia. Adora la tua inquietudine finché avrai forze sorrisi. Cerca di usarla per contaminare gli altri, soprattutto i più pavidi e vulnerabili. Dona loro il tuo vento intrepido, ascolta il loro silenzio con curiosità, rispetta anche la loro paura eccessiva. Mi piacerebbe che la persona che più tu amerà possa amare il tuo congedo come un marinaio che vede la sua vecchia barca allontanarsi e galleggiare sapiente lungo la linea dell'orizzonte e tu allora porterai quell'amore sempre con te nascosto nella tua tasca più intima. Ecco, questo è secondo me una lettera stupenda e un augurio a tutti i genitori. Altri libri presenti nella nostra biblioteca che trattano del tema della famiglia possono essere Il mito del matriarcato, Amore come rivoluzione, L'Italia del tempo presente, Le strutture elementari della parentela, studi sull'autorità e la famiglia, La prospettiva relazionare e molti altri, tra i quali l'ultimo acquisto, Laura Pigozzi, Troppa famiglia fa male, come la dipendenza materna crea adulti bambini e pessimi cittadini. Ecco, queste sono alcune proposte della Biblioteca Civica per la famiglia.